Buffy l'ammazza vampiri, stagione 8 a fumetti, finalmente ne parliamo insieme Wabalabadabdabe bentornati, sono Mamamazzo bentornati nella rubrica Buffyverso e nella rubrica fumetti ovviamente Sono con voi a parlare dell'ottava stagione di Buffy, sequel canonico alla serie televisiva Che precede ovviamente la stagione 9, non c'è da dirlo, e ovviamente la stagione 10 Che uscirà, udite udite, il credo 18 dicembre, con un po' di ritardo per la questione della crisi della carta Comunque arriverà da salda pressa questo mese, quindi sono qui per parlare con voi delle stagioni 8 in questo video e 9 in un altro video Per le persone che non hanno potuto leggere queste due stagioni e sarebbero impreparate a leggere la stagione 10 Non avendo queste due stagioni, avendo due grossi buchi, anzi tre grossi buchi Perché c'è anche la stagione di Angel a fumetti, Angel After the Fall, da non sottovalutare Vi metto qua in descrizione, qua nelle schede, il video dove ho parlato, i video dove ho parlato di quella stagione Perché anche quella va un attimino presa in considerazione Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale Di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi prega Di condividere il video con tutte le persone che amano Buffy, l'ammazzavampire Di commentare qui sotto con tutto quello che viene parso di questa stagione Se l'avete letta e se non l'avete letta e avete delle domande che vanno oltre a quello che ho detto Che magari mi sono scordato di dire, non esitate a chiederle qua sotto nei commenti E vi risponderò sperando di sapere la risposta Altrimenti ci rimettiamo anche noi a Buffy Italian World Che trovate su Instagram, che mi ha aiutato molto anche a leggere la seconda parte della stagione di Angel 6 Allora, Buffy stagione 8, innanzitutto voglio dire che commercialmente questa stagione ha avuto un successo della Madonna Un successo enorme, doveva essere una run di 25 numeri negli Stati Uniti, ne è durati ben 40 Noi abbiamo 8 brossurati di questa portata e ragazzi sono fantastici Da fan di Angel, devo dire che questa stagione di Buffy è nettamente superiore anche dal punto di vista grafico I personaggi disegnati assomigliano davvero tanto ai comprimare, alle loro controparti in carne e ossa A differenza magari di Angel, dove per far capire che era Angel bastava una giacca di pelle e i capelli un po' sparati Per fare Spike bastava uno spolverino di pelle e i capelli platinati Qui le somiglianze sono davvero impressionanti Disegni della Madonna, fantastici Magari ve li farò vedere in live se volete Faremo una live dedicata dopo che sarà uscito Spider-Man Perché se no, Madonna mia che casino Per quanto invece riguarda la storia, la storia dove parte si colloca idealmente un anno dopo gli eventi della stagione 7 di Buffy Del finale della stagione 7 di Buffy, ovvero che Buffy riesce finalmente a sconfiggere il primo Riesce a attivare tutte le potenziali cacciatrici come reali cacciatrici a tutti gli effetti Quindi a liberare la loro forza in quell'esatto momento E a sconfiggere l'esercito di protovampiri e distruggere la bocca dell'inferno con Sunnydale Quindi distruggendo la città di Sunnydale Nel frattempo però dobbiamo tener conto che c'è stata la stagione 5 di Angel e la stagione 6 di Angel in realtà Quindi possiamo presumere che queste due stagioni siano all'interno di quest'anno Nella stagione 8 di Buffy questi eventi sono già successi Buffy e la sua squadra, che ormai è composta principalmente da Xander e dall'esercito di cacciatrici Si sono trasferiti in un fantastico castello scozzese E da lì dirigono una sorta di, come posso dire, una specie di associazione, neanche associazione Una forza, un'agenzia militaristica dove appunto le cacciatrici si occupano a livello globale Di sconfiggere i vari demoni nel mondo Questa cosa l'abbiamo anche vista vagamente accennata anche nella stagione 5 di Angel Dove vediamo Andrew che è una sorta di portavoce di Buffy ed è scortato da un manipolo di cacciatrici Mi piace anche come conseguenza naturale che quello che è successo nel finale della stagione 7 di Buffy Non abbia, insomma, non si è passato inosservato, ha suscitato scalpore Tant'è che il big bad di questa stagione 8 è a tutti gli effetti il governo, si può dire C'è una sorta di agenzia che ricorda molto l'Initiative, l'organizzazione L'hanno tradotta malissimo in mille modi nella stagione 4 di Buffy Comunque c'è un'associazione governativa paramilitare che ricorda molto l'Initiative Che si sente minacciata da questa Buffy Summers che ha raso al suolo la sua città E sta mobilitando delle forze per sconfiggerla proprio perché anche Buffy stessa ora è una forza militare Si sentono molto minacciati da questo manipolo di cacciatrici, da questo esercito di cacciatrici Quindi vediamo che c'è un generale che vuole guidare delle contromisure contro Buffy l'ammazzavampiri E al suo fianco vediamo due personaggi che non sono nuovi ai nostri occhi da fan E dei quali uno dei due è davvero raccapricciante da vedere ai nostri occhi da fan Un personaggio è Amy, la strega, che nella stagione 3 si era autotrasformata in un ratto E nella stagione 6 era stata ritrasformata in essere umana da Willow Dato che aveva migliorato i suoi poteri da strega Nella stagione 6 di Buffy l'ammazzavampiri ci rendiamo conto come Amy non sia comunque una buona compagnia Una buona frequentazione per Willow La vediamo... è trattata come la metafora di quella ragazza che ti porta a conoscere delle droghe Laddove la droga per Willow nella stagione 6 è la magia E poi la ragazza in realtà fa un... fa un uso abbastanza controllato La ragazza che viene trascinata dentro Willow invece va a diventare una tossica È quello che succede nella stagione 6 nell'arco narrativo di Willow È un po' la trainspotting, non so se l'avete visto Che il ragazzo che non faceva uso di droghe quando ha iniziato a farne uso muore per Overtose È la stessa narrazione, no? Quindi già nella stagione 6 avevano dipinto Amy come un personaggio non prettamente positivo Qua in questa stagione 7 è a tutti gli effetti alleata col nemico E intuiamo che è cattiva perché è insieme... è una coppia con Warren Warren che è colui che del trio dei cattivi sfigatissimi della stagione 6 Era stato scuoiato vivo, se non sbaglio, sì scuoiato vivo da Willow, dalla Dark Willow Lo vediamo re di vivo in carne, nel senso che non ha la pelle, in carne e ossa senza pelle Lo vediamo re di vivo grazie alla magia a complottare contro Buffy Ho parlato di Buffy e Xander, dove sono tutti gli altri della Scooby Gang? Beh, allora Willow innanzitutto è un po' più defilata Continua a frequentare la sua congrega di streghe per acquisire al meglio i suoi poteri Per gestirli al meglio e la vediamo molto spesso come viene usato il Doctor Strange nei fumetti Marvel Un po' come Deus Ex Machina, arriva a risolvere i guai E anche qua, in questa saga, in questa stagione 8, così come è successo anche in Angel In più occasioni arriva a risolvere i problemi con la magia Dawn invece ha i suoi problemi, nel senso che segue un arco narrativo abbastanza indipendente Vuoi perché forse non sanno bene come trattare, come gestire la sorellina che non a tutti piaceva Per esempio a me non piaceva la presenza di Dawn così dall'oggi al domani Fatto sta che Dawn, che adesso è una ragazza universitaria Stava frequentando un ragazzo ma pare che lo abbia tradito con il suo compagno di università E di conseguenza, come sempre in questo mondo super magico Perché la stagione 8 è davvero super magica Gli è stata scagliata contro una maledizione E quindi Dawn viene trasformata in una gigantessa Inutile dire che l'utilizzo del media fumetto anziché il media serie tv Permette a Joss Whedon e ai vari autori di poter esagerare Con quelli che sarebbero effetti speciali molto costosi in una serie tv Qua, soprattutto nella stagione 8, si fa di tutto Si ingrandisce la gente, la si trasforma in centauro Si fa volare la gente, ci sono eserciti, location spettacolari Mostri enormi e tutto questo grazie al media fumetto Poi nella stagione 9 tutto questo verrà di nuovo ridimensionato A quella che noi sappiamo essere la zona di comfort, i baffi Quindi un profilo un po' più basso Però esordire alla grandissima, come hanno fatto in questa stagione È stata una mossa vincente Ho detto centauri non a caso perché Dawn passa da tre trasformazioni Passa da essere una gigantessa a una centauro Centaura? Vabbè, donna a cavallo, non lo so A essere una sorta di bambola, di pezza Per poi spezzare, fare in modo che si spezzi la maledizione Però appunto è una trama a sé stante In tutto questo viene sempre consolata da Xander Che presto si rivelerà essere innamorato di Dawn Molto strano, dato che al di là che Dawn non esiste Cioè nel senso tecnicamente ha qualche anno Ma nei fittizi ricordi che hanno Angel Scusate che hanno Xander, Willow e Buffy Insomma c'era una grande differenza d'età nel passato Adesso chiaramente anche lei è adulta e si nota di meno Però fatto sta che Xander, che ora la vede come una donna a tutti gli effetti E non più come una sorella minore a quanto pare Si è invaghito di Dawn e viene ricambiato Willow è tuttora insieme a Kennedy Che fa parte dell'esercito delle ammazza vampiri di Buffy Però appunto stando per i fatti suoi Non si sa bene cosa succede Adesso non ricordo se sta con un'altra So che comunque Willow e Kennedy si lasceranno In tutto questo invece non fa parte del gioco il signor Jais Il signor Jais opera separatamente insieme a Fate Per impedire che ci siano altre cacciatrici ribelli come Fate Questo perché in uno di questi numeri c'è proprio una trama Una trama autoconclusiva dove c'è una cacciatrice che è impazzita Proprio perché era una ragazza già molto disturbata prima Quando gli sono venuti i poteri da cacciatrice La sua mente è esplosa Ed è diventata una sorta di serial killer Quindi Buffy se ne è occupata E il signor Jais e Fate appunto hanno questo distaccamento In cui si occuperanno di eventuali altre cacciatrici ribelli Quindi diciamo che c'è un po' di maretta tra Buffy e il signor Jais Specie alla luce del fatto che si sa Buffy è sempre molto gelosa Quando non gli si viene data l'attenzione che pretende di avere Specie quando le persone che ama vanno verso persone che lei considera inferiori In un certo senso Non so se ci avete mai fatto caso Comunque vedendo il signor Jais che dà attenzione a Fate più che a lei Come si è visto un po' anche nelle stagioni passate Se lo so, nella stagione 7 un pochino E vedere Xander che è innamorato di Dawn E non è più il suo cagnolino Insomma la fa un po' sbroccare Tant'è che ha anche una relazione omosessuale Una relazione carnale omosessuale credo di una notte Con una ragazza Questo ci tengo a dirlo Non perché sia una cosa che abbia molto conto Però è stato uno dei motivi per cui questa serie ha anche suscitato scalpore Ovviamente uno scalpore relativo nella cricca dei fan Perché Buffy non è di grande popolarità Come Guerre Stellare o che cazzo ne so Però è un piccolo cult E diciamo ha fatto un po' parlare di sé Anche grazie o a causa di questo evento Che però appunto è un elemento isolato Anzi Buffy non è assolutamente nuova a queste cose E credo sia stato uno dei primi Delle prime serie tv che ha introdotto Uno dei main character che attraversa una fase di coming out Che era Willow E quindi vedere che Buffy può avere un'esperienza Diciamo diversa dal suo orientamento Anche solo per fare un'esperienza È stato comunque una scelta innovativa Ma Joss Whedon non è nuovo a queste scelte Assolutamente Tutte queste forze che tramano alle spalle della cacciatrice Vengono radunate sotto un'unica bandiera La bandiera di Twilight E no non mi sto riferendo a quella orrenda saga cinematografica Tratta da un libro che io non ho letto Che magari sarà anche stato bellissimo Ma non credo Twilight è il nome del Big Bad di questa stagione Che prende diciamo le redini E va a farsi anche capo di questa organizzazione militare Perché vediamo tra le altre cose Che questo generale ha tipo inciso sulla pelle Sulla carne Una sorta di logo Che ricorda appunto un crepuscolo Twilight significa crepuscolo in inglese C'è questa sorta di logo Di Twilight In cui lui sembra essere un fedele seguace Se avete letto in inglese la seconda parte della stagione di Angel Che poi scoperto non necessariamente canonica A un certo punto Spike dice Ah sì perché non scrivete una Assume degli sceneggiatori di Hollywood E dice create una profezia E inventate che ci sarà qualcosa con un nome buffo tipo Twilight Ed è quello che è successo C'è una nuova profezia Che dice che questo Twilight Sarà il nuovo ordine mondiale Questo Twilight è potentissimo Riesce a volare a poteri incommensurabili Riesce a percepire le persone Attraverso la loro magia Un po' come Voldemort In Harry Potter Che se a un certo punto Nell'ultimo libro se non sbaglio Se si nomina il suo nome Lui l'aveva incantato E poteva percepire Chi aveva il coraggio di nominarlo E rintracciarli Qua è la stessa cosa Twilight riesce a percepire le persone Che fanno uso di magia Ed è per questo che c'è un fantastico momento In cui tutte queste persone Vanno a cercare L'unica persona Che è riuscito a tenere a bada I suoi demoni interiori Che è Oz Che è un personaggio che io adoro E quindi Oz gli spiega Come è riuscito a tenere a bada Il lupo mannaro Che è dentro di lui E aggiustano anche Un buco di trama Della stagione 4 In cui molti si chiedevano Come ha fatto Oz In così poco tempo A controllare La maledizione Del lupo mannaro Qui hanno spiegato Che è successo Perché si è recato In un luogo In una zona del Tibet Che assorbe In realtà la magia Quindi non è data Tanto dal Dal fatto che Oz Riuscisse a Tenere a bada Da solo La maledizione Del lupo mannaro Ma in realtà Era questo posto Che Assorbiva Tutta la magia E di conseguenza Era un po' Come si può dire Era un po' Falsato questo dato Dal luogo In cui si trovava Un'altra cosa Che scopriamo È che la magia Delle cacciatrici L'incantesimo Che ha risvegliato Tutte le cacciatrici Quindi che ha potenziato Tutte le cacciatrici Che le ha fatte diventare Cacciatrici In carica E non potenziali È aumentato Il potere Delle cacciatrici Ma questo potere Nel momento in cui Una cacciatrice muore Viene ridistribuito Finché non vediamo Dopo che Twilight Ha fatto una strage Di cacciatrici Vediamo che Tutto questo potere Residuo Torna In Buffy Torna Nella cacciatrice Nella prima cacciatrice Viva Che è Buffy Fino a darle Dei poteri Simili a quelli di Twilight Tant'è che vediamo Buffy volare E combattere in volo Con Twilight Se tutto questo vi sembra esagerato Non vi preoccupate È comunque temporaneo E non è la cosa peggiore Di questa stagione Il finale di questa stagione È una delle cose peggiori Secondo me Ma perché Tra le altre cose Sa tantissimo Di già visto Questo perché Twilight Che è un personaggio Mascherato Con un passamontagna Una volta tolto Il passamontagna Si rivela essere Niente po' di meno Che Angel Per questo ho detto Dovete aver letto La stagione 6 Di Angel Perché Altrimenti Non capirei Cioè non si capisce Lo stesso Viaggiano comunque In parallelo Però questa stagione 8 Non va a cancellare La stagione 6 Di Angel Assolutamente Semplicemente Si colloca successivamente Non si sa perché Angel Abbia fatto questa cosa È assurdo Angel sostiene Che Temeva Che tutte queste forze Che combattevano Contro Buffy Sarebbero state troppe E allora Ha ben pensato Di unirle sotto Un'unica bandiera In modo di Diciamo Limitare i danni Un po' come fanno I complottisti Cioè Il complottista Vede tante cose Che succedono nel mondo Gli fanno paura E la mente Proprio il cervello Dell'essere umano Per poter controllare Tutte queste cose Le unisce Sotto un'unica Sotto un'unica Motivazione Fondamentalmente il trigger Che succede nel cervello I complottisti È questo E Angel ha voluto Fare questa cosa Ha voluto Riunire tutte le varie cose Sotto di lui Per poterle controllare Perché facessero Meno del male a Buffy Ma è comunque Una Una motivazione Davvero stupida Perché comunque Ha fatto una scia di morti Insomma Fondamentalmente Non è chiara Questa cosa Diventa un po' più chiara Quando pare che Angel sia sotto L'influenza Di Twilight Che In realtà Pare essere Sia un altro piano Dell'esistenza Che non riusciamo ancora A raggiungere E che si può raggiungere Laddove Buffy e Angel Una volta raggiunto Questo immenso potere Creino Una sorta di Figlio Che è questa Nuova dimensione Questa nuova dimensione Ma anche Un nuovo essere A tutti gli effetti Che qua viene rappresentato Come una sorta di chimera Un leone alato Ma che allo stesso tempo Pare Essere lui A controllare La mente di Angel Ora È qualcosa che abbiamo Già visto Perché Angel Posseduto da qualcuno Lo abbiamo Già visto Abbiamo già visto Angel Sotto i panni Di Angelus Abbiamo già visto Angel Posseduto Dal demone A Katla E adesso vediamo Di nuovo Angel Posseduto Da Twilight Due palle Basta Possedere Angel A parte Buffy Che l'ha posseduto Anche lei In questo In questo numero Ma quello è un altro Discorso È davvero Una cosa che mi ha Mi ha fatto un po' Cadere le braccia Peccato Perché Non lo so Potevano tranquillamente Inserire un nemico Nuovo Fresco Perché era molto interessante Twilight Oppure poteva essere Un nemico di vecchia data Ma non per forza Angel Perché doveva essere Angel Non aveva senso Capisco che volessero Riunirlo Sotto La main La main series Però Vabbè Fatto sta che niente Buffy e Angel Ci danno dentro Fanno sesso In aria In volo E creano questa nuova dimensione Paradisiaca Molto paradiso terrestre In cui Nulla Vivranno solo loro due E si lasceranno Alle spalle La terra Tutto il resto Però Buffy capisce Che non può lasciare Alle spalle I suoi amici Spice perché la terra Pare che Rischia di venire Annichilita Dalla creazione Di Twilight E quindi torna Sul piano terreno Lasciando Lasciando Questo Questo Twilight Questa nuova Entità Creata Dal loro amore Orfana Di loro due E non c'è niente di più Arrabbiato Di un'entità Strana Demoniaca Eccetera Che Viene lasciata sola Dai propri genitori Quindi per qualche ragione Twilight Torna Possedere Angel in tutto e per tutto Cioè a comandare le sue azioni E a diventare a tutti gli effetti Di un essere Con la faccia di Angel Che però è un'altra persona Ed è per questo dico Che palle vedere sempre Angel manipolato come un burattino Cioè fa proprio la figura Di colui che riesce a essere Manipolato In tutto questo non ho nominato Spike Che Per quanto ne sappiamo Buffy Non sapeva ancora Che fosse tornato in vita Magari lo ha saputo E non ce l'hanno mostrato Fatto sta che Spike Torna a bordo Della sua astronave Comandata dalle blatte Dalle blatte giganti Quindi torna come Capitano di questa astronave Quindi per quello vi ho detto La stagione 8 È davvero fuori di testa Quindi torna a bordo Di questo Di questo vascello volante E Innanzitutto Dama un forte a Buffy E poi spiega che Pare che sotto Sunnydale Ancora se non sbaglio Sotto Sunnydale Quindi sotto la bocca dell'inferno Non lo so È tutto a Sunnydale Vabbè C'è una sorta di seme Si chiama seme Sembra un grosso uovo Di queste dimensioni Sul verdognolo E quello è il seme Della magia terrestre E la magia esiste Sulla terra Perché esiste questo seme Questo seme È una sorta anche di Varco Se vogliamo dire Una sorta di varco Che dalle altre dimensioni Tutte Fa confluire la magia E la ridistribuisce Sulla terra Il signor Il signor Giles È intenzionato A distruggere Questo seme Per fare in modo Che Twilight Non attraversi Con la magia Non torni sulla terra E la distrugga Come lui vuole fare Per poter nascere A tutti gli effetti Angel Posseduto da Twilight Purtroppo Per impedire Che Giles Distrugga il seme Uccide Giles E lo uccide Nel modo più terreno possibile Gli spezza il collo Girandogli la testa Esattamente come ha ucciso Jenny Calendar Questa cosa Fa sciocca Buffy Al punto che È lei stessa A distruggere il seme Quello che però Scopriamo successivamente È che una volta Che il seme è distrutto Tutta la magia Sulla terra Sta venendo meno Ci sono Delle macchie Di magia residua Che si possono ancora usare Ma è davvero Davvero pochissima Questa è la scusa Narrativa Per spiegare Che nella prossima Stagione La stagione 9 Non vedremo Tutte queste Magie enormi Ma si tornerà Su un piano Molto terreno Ovviamente Senza la magia Personaggi come Willow Sono molto Arrabbiati con Buffy Perché gli hanno Tolto La loro essenza Quindi Tutte le creature Magiche Sono abbastanza Arrabbiate con Buffy Per questo motivo Perché ha tolto La magia Dalla terra Distrutto il seme Si distrugge anche La connessione Tra Twilight e Angel Che torna in sé Si rende conto Dell'orrenda cosa Che ha fatto Come è già successo Anche qui altre volte Vediamo Fate Che a tutti gli effetti Diventerà L'erede di Jais Nel senso che Eredita Le sue proprietà Altra cosa che fa Rimanere molto male Molto male Buffy Scusate Fate Decide di occuparsi Dell'anima di Angel Proprio per ritornargli Il favore che A suo tempo Lui fece a lei E quindi Prende Angel Un Angel distrutto Sotto la sua custodia Lo porta Nella Nella casa Di Jais E da lì Nascerà Lo spin off Angel e Fate Dove Angel Cercherà Con un incantesimo Di cercare Di riportare Alla vita Il signor Jais E anche questa stagione È molto interessante È molto carina Non so Se Ne parlerò Nel senso che A parte quello Che vi ho detto adesso È godibile Ed è bello vedere Angel e Fate Che collaborano assieme È una coppia Che io adoro Però non è Non è molto rilevante Oltre a quello Che vi ho detto Il motivo Magari Quando farò il video Della stagione 9 Vi do ancora Qualche dritta Poi vediamo se Parlare in un video A parte Di questo spin off Bene Quello che dovevate Sapere sulla stagione 8 Dovrei avervelo detto Tutto a grandi linee Quindi Ricapitolando Will è arrabbiata Con Buffy Xander è insieme a Dawn Buffy si sente sola Come non mai E si trasferisce Nell'appartamento Di Dawn E Xander A San Francisco Quindi non più in Scozia Ma a San Francisco Il signor Jais Purtroppo Ci ha lasciato le penne Fate è Credo a Cleveland O Chicago Non ricordo Con Angel A occuparsi Di quello che succede là E Spike Va e viene Come fa sempre Bene Grazie per avermi seguito Fino a qui Il video è lunghissimo Ma tanto lo so Che è un video Calt per gli appassionati Quindi Presumo che Vi interessasse Io come sempre Con l'inchino E con l'imbuto Vi saluto E vi dico Arrivederci Al prossimo video Grazie a tutti